Il progetto che presentiamo questa sera è un'opportunità per me, intanto, primo perché nasce qui a Torino, che forse è una delle città che io amo di più in Italia, non ricordandomi l'Italia quando vengo qui, non so per quale motivo, mi sembra di stare in un'altra nazione, ma a parte questo è una grande opportunità poterla condividere con Kyle, con il quale oramai collaboriamo da due anni e ci siamo sempre detti di voler fare qualcosa andando a ricercare delle musiche anche forse più semplici, più profonde e quale migliore occasione quella di Gran Torino, che è una musica che lui ha scritto ma che ricordo è stata registrata in una stanza a casa del papà, cioè di Clint Eastwood, con questo straordinario cantante che è Jimmy Callum, per cui vi lascio immaginare l'atmosfera di un brano che nasce a casa di Clint Eastwood, con il massimo dell'ispirazione. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ed è un progetto che nasce qui e spero non muoia perché comunque c'è molta voglia di continuarlo e mi auguro e credo che Gran Torino sarà un progetto che avrà un futuro sicuramente pieno di chance, di occasioni e di opportunità. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!